Come funziona CarTrader? Quale sarà il vantaggio di acquistare su questa piattaforma? E quali TCG si potranno trovare sul sito? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Nel mesi scorsi ho iniziato a dare uno sguardo al formato pauper di Magic the Gathering, scoprendo ben presto che uno degli archetipi di deck che più ho amato ha dimostrato il suo valore nei vari tornei internazionali, ovvero il tramutante. Io letteralmente venero i tramutanti e la loro dinamica di alveare, infatti se vi capiterà di possederne o maneggiarne uno, vi accorgerete della dicitura tutti i tramutanti con effetto a seguire. Prendiamo ad esempio il tramutante nerboruto con abilità tutti i tramutanti prendono più uno più uno. Ebbene, una volta che avrà messo piede in gioco, lui stesso sarà bersagliato dal proprio effetto, diventando un 2-2, fornendo in più un aumento di forza e costituzione ad ogni altro tramutante presente in gioco. Insomma, avrete capito che ho un debole per questi esseri, che assieme al mazzosparo, che tuttora ho a disposizione per match tra amici, è l'affinity, primissimo archetipo di deck che io abbia mai utilizzato quando era in voga la prole stellare, si parla di mirodin, e che so, esiste anche in pauper, e presto o tardi inizierò a montarlo, formano il mio personale tridente preferito. Ma c'è un ma, sapevo dell'esistenza del deck, ma quello che mancava era la materia prima, le carte, e a parte qualche lontana rimembranza come il pelle di gemma, il crotalo e il corazzato che erano stati dati per dispersi anni addietro e che dopo lunghe ricerche sono riuscito a ritrovare, di tutto il resto neanche l'ombra. Esistono però sul web degli strumenti che corrono in aiuto di ogni giocatore che vuole completare il proprio deck, che di sicuro molti di voi conosceranno. E quindi, deciso nel volere ancora una volta riunire l'armata degli sliver, ho acceso il pc, recandomi nell'etere intento a portare a termine la ricerca, creando poi un carrello, procedendo infine all'acquisto. Arrivato a termine del processo, però, una cosa mi ha fatto desistere dal continuare, ovvero le spese di spedizione. Infatti per un deck dal costo di 3,26€, messi assieme tutte le 44 carte del mazzo, terre escluse, avrei dovuto pagare la bellezza di 43,68€ per farmele spedire. Diciamo che questa cosa non mi ha convinto molto e ho lasciato stare andando alla ricerca di altre soluzioni. Ed è qui che mi sono imbattuto in CarTrader, che con il suo servizio zero mi ha fatto dimezzare i costi, con spese di spedizione incluse. Ma vi parlerò del mio excursus tra poco. Prima di continuare, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, così crescendo potrò portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram, dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite, molto altro ancora, e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali saranno i passaggi da svolgere per ordinare su CarTrader, il mercato secondario per i TCG made in Italy. Andiamo a dargli un'occhiata. Il ritorno dell'alveare Una volta scoperto quindi CarTrader, ho iniziato a girovagare per i numerosi cataloghi che hanno disponibili, tra i quali nomi spiccano quelli di Magic, Pokémon e Yugi, ovviamente, continuando con Flash and Blood, Digimon, Dragon Ball Super, Vanguard, MetaZoo, fino ad arrivare ai TCG di One Piece e all'attuale Lorcana, quindi magari dateci uno sguardo. Nel mio esplorare ho iniziato a notare alcune specifiche particolari che hanno attratto la mia attenzione, come ad esempio delle altre opzioni da selezionare oltre al carrello puro e semplice. E così, incuriosito dal vedere cose nuove, mi sono detto, perché non provare? E così ho fatto. Dopo aver aggiunto quindi tutte le carte del deck all'interno del carrello attraverso le varie scelte disponibili, ho compreso appieno la loro utilità. Il carrello, la semplice icona a sfondo blu, rappresenterà l'ordine diretto al venditore, quindi una volta che avrete effettuato il pagamento, sarà quest'ultimo ad inviarvi l'oggetto direttamente a casa. In questo caso le spese di spedizione dovranno essere pagate ad personam, ovvero per ogni negoziante. Lo stesso carrello accompagnato dalla voce 0 su sfondo giallo, invece, vi permetterà di selezionare le carte che vorrete ordinare, pagando infine una sola volta le spese di spedizione. È Arconte, anche altrove, le spese di spedizione si pagano una volta sola. Lasciate che vi spieghi meglio. Con il servizio 0 sarà come se apriste una sorta di casella postale totalmente gratuita presso lo stabilimento di Cartrader, dove accumulerete i vostri ordini che dal venditore verranno spediti direttamente alla sede centrale. Quindi una volta che ogni oggetto sarà aggiunto alla logistica potrete pagare una singola spesa di spedizione direttamente a Cartrader, risparmiando non poco, proprio sulle spese di spedizione. Infatti una volta che ho completato il carrello la situazione è stata la seguente. I 44 articoli selezionati hanno avuto un valore complessivo di 11,88€, a differenza dei 3,26€ del primo servizio. Ai primi poi ci sono stati aggiunti ulteriori 1,55€ di spese di spedizione dal venditore alla sede centrale e 78 centesimi di commissioni per un totale di 14,21€. Arconte non è tanto conveniente a quanto mi sembra, ci arriviamo. Per abbassare quindi ulteriormente il valore dell'ordine ho utilizzato la voce Ottimizza Carrello, che dopo un minuto scarso ha ridotto gli ordini minimizzando i venditori e di conseguenza diminuendo ancora di più l'importo da pagare. Infatti dopo il processo da 14,21€ il totale si è attestato sui 12,26€. Non è ancora conveniente Arconte. Quindi una volta effettuato il pagamento ho atteso che le carte raggiungessero la sede ed una volta aggiunta anche l'ultima, ci hanno messo dai 9 ai 15 giorni per arrivare tutte, mi sono dovuto scontrare con la dura realtà dei fatti. Pagare le spese di spedizione da CarTrader a me. Eh, te lo dicevo che non conveniva Arconte. In realtà sono rimasto piuttosto sorpreso perché a differenza del primo servizio, dove queste ammontavano a ben 43,68€, qui sono state solamente 10€. Fammi capire Arconte, 12,26€ più 10€ di spese di spedizione? Esattamente, per un totale di 22,26€, quasi la metà rispetto al primo sito web che ho visitato dove il totale dell'ordine era di 43,68€. Ovviamente stavo scherzando quando ho detto che mi sono dovuto scontrare con la dura realtà dei fatti, dato che sul sito ho trovato una scheda riassuntiva dettagliata di ogni singola spesa che avrei dovuto affrontare una volta che tutte le carte del deck sarebbero arrivate a destinazione. E quindi, sostenendo anche quest'ultima spesa, dopo 24 ore il pacco è arrivato a casa e l'alveare ha avuto la possibilità di riunirsi ancora una volta per scendere sui campi di battaglia. Arconte, una cosa non mi è chiara. Hai detto che per arrivare alla sede centrale di CarTrader le carte hanno impiegato dai 9 ai 15 giorni lavorativi. E se a me le carte serviranno a stretto giro? In quel caso, se avrete fretta, vi consiglio di ordinare direttamente dal venditore, ma credo che a quel punto la scelta della piattaforma web sarà del tutto irrilavante. Infine, ci sarà anche la voce Zero One Day, dove gli oggetti acquistati saranno disponibili alla spedizione già dal giorno successivo all'acquisto, dato che l'inventario sarà in possesso e verificato direttamente dallo staff di CarTrader. Quindi, in 48 ore, avrete a disposizione la carta o le carte pronte per essere inserite nel deck o in un album per completare una raccolta. Questo ovviamente è per chi compra, mentre se starete interessati a vendere, valutate bene il concetto, visto che se avrete un centinaio di carte da dare via, non so fino a che punto la cosa potrà convenirvi. Mentre, se il numero da commercializzare sarà pari o superiore a 1000, eh, in quel caso valutate la possibilità di affidarvi al servizio Zero. Invece, se vorrete acquistare carte, vi lascerò in descrizione il mio personale referral link, dove iscrivendovi sul sito attraverso di esso riceverete 2 euro di bonus da spendere per il vostro primo ordine. Di sicuro, da quando ho scoperto CarTrader, ho iniziato ad ordinare molto spesso attraverso il loro servizio, anche dopo aver appreso della loro garanzia, dove, dopo l'ordine, sarà unicamente lo staff a gestire ogni controversia che si presenterà, tutelandovi al 100%, ricevendo a casa ogni singolo articolo che avrete comperato. Certamente dopo i tramutanti e il mazzo sparo che ho completato grazie sempre a questo servizio, toccherà all'affinity essere montato, così da avere sempre a disposizione il mio tridente preferito per giocare al meglio qualsiasi match che mi ritroverò ad affrontare. E voi avete già provato questo servizio? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei DCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.